Immobilizzata con del nastro adesivo per poter agire indisturbati, persino la bocca le era stata sigillata per farla stare zitta, costretta ad osservare degli sconosciuti, mettere a suo quadro la propria abitazione alla ricerca di oggetti di valore. Il tutto quando l'età rende le persone ancora più vulnerabili, impressionabili e fisicamente più fragili. E' stato questo il tragico San Valentino di uno signore di 80 anni residente a Rimini nel quartiere periferico di Gaiofana. Una rapina violenta è stata questa la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori dell'anziana donna giunti dopo che questa aveva dato l'allarme verso le ore 19. Secondo quanto emerso finora, i malviventi hanno violato la sua abitazione attorno alle 17. Due ore dunque in cui i ladri avrebbero potuto agire indisturbati grazie all'adesivo con cui avrebbero ingabbiato l'ottantenne. Hanno suonato il campanello aperto e mi sono ritrovata legata. E quanto ha spiegato la donna ai sanitari giunti sul posto prima di essere stata condotta all'ospedale di Rimini per i dovuti accertamenti. Ma oltre allo shock non avrebbe riportato ferite significative. Insieme a lei nell'appartamento ci sarebbe stata anche la badante e anch'essa ne sarebbe uscita senza lesioni. Al momento la rifurtiva resta ancora da quantificare. Arrivederci, buon lavoro!